Bene, credo che questa sera la presentazione del tuo libro sia stata interessante perché la storia di Capocolonna, ma in particolar modo la storia della Madonna, ha preso piede e quindi si parte, come ha detto anche il Monsignor Cagliazzo, si parte da Era Lacinia per arrivare alla nostra immagine, alla nostra Vergine. Ebbessi dal culto appunto dall'epoca pagana al culto cristiano. E' un po' una seconda puntata dopo quella che c'è stata a maggio nel mese appunto mariano di presentazione di questo volume Cotronis Domina e l'abbiamo fatto oggi approfittando un po' del ritorno e con il periodo estivo di Monsignor Cagliazzo e anche tra l'altro nostro confratello onorario, quindi non poteva mancare perché ha realizzato un contributo importante all'interno del volume. Ed è stato un momento di riflessione, in modo che non si parla della Madonna di Capocolonna solo a maggio, ma cerchiamo anche come confraternita di mantenere alta l'attenzione durante il periodo dell'anno. Eccellenza, parlare di Crotone, parlare di Capocolonna significa non solo guardare al presente, ma tantissimo al passato. Ma è impossibile poter guardare al presente senza conoscere il passato. C'è una storia, una storia che ci appartiene, una storia che ci riporta a quello che è l'essenza anche della nostra vita, della nostra esistenza, ma anche della nostra religiosità e quindi della nostra fede. Ci sono cose che assolutamente non possiamo leggere con superficialità, ma bisogna entrare proprio a volte ed è necessario in quello che è il mistero stesso che la vita ci svela giorno dopo giorno, sapendo che ci sono stati uomini, donne, fatti concreti che ci hanno portato ad essere quello che siamo oggi, per cui ci sono anche delle responsabilità da parte di ognuno di noi e nello stesso tempo anche cogliere la bellezza di tutto quello che a tanti uomini, tanti fratelli, tante sorelle ne hanno creduto, ci hanno rimesso anche attraverso l'impegno concreto, ma noi siamo diventati eredi di qualcosa di bello che dobbiamo saper custodire, non dobbiamo disprezzare o far perdere il gusto, il senso e il significato di quello che esprimevano prima. Dottore Verso, oggi è la presentazione del libro di Federico Ferraro, ma quello che è importante è far emergere sempre il nostro passato, perché senza passato un popolo non ha futuro, ma noi abbiamo un passato interessante che va fatto conoscere anche i giovani. È un passato interessante, ma in qualche modo complesso, articolato meglio, per cui bisogna riuscire a ricostruirlo, anche banalmente mentalmente, insomma, riuscire a capire che queste varie epoche, cioè la civiltà greca, poi quella romana, quella bizantina, quella successiva degli Aragonesi, Angioini, insomma, sono state varie civiltà che si sono andate a passare un testimone e quindi noi dobbiamo ricordarci che quello che interessa è questo testimone, questo che ci trasmettiamo di volta in volta e per poi scoprire che il filo conduttore è quasi sempre lo stesso, cioè l'umanità, l'essere umano, che ha tradotto nella sua civiltà del periodo quei valori, ma che si è mantenuto fermo a dei principi che sono fermamente legati all'essere umano, non mi viene una parola diversa, all'essere uomini. Hai voluto fortemente la presentazione del libro di Federico Ferraro qui al Museo di Pitagora, dove si parla dell'antica Croton, ma un pezzo di storia che ci interessa. Sì, ci interessa questa storia perché fa parte della storia crotonese, abbiamo parlato del culto della Madonna, di come si è originato, di come si è creato, di come è antico, che è ancora prima della cristianità, quindi riguarda la nostra storia e la nostra identità, quindi questo libro è all'interno del programma comunitario di costruzione e di ricostruzione dell'identità del popolo crotonese.